Ciao a tutti, oggi prepareremo i panini croccanti. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 5 minuti per la preparazione, 1 ora e 30 per la lievitazione e 20 minuti di cottura. Gli ingredienti sono farina di semola di grano duro, olio, sale, mezzo cubetto di lievito e acqua. Diamo il via alla ricetta, mettere nel bottale l'acqua e il lievito. E andiamo a far sciogliere l'inlievito per 2 minuti, 37 gradi, velocità a 3. Adesso uniamo la farina, il sale e l'olio. E andiamo a impastare la pastiglia per 3 minuti. Adesso lasciamo a lievitare nel boccale l'impasto per almeno un'ora. Trascorso il tempo di lievitazione andiamo a formare i panini. Prendiamo un po' di impasto e andiamo a formare una panina. Formiamo altre palline di questa dimensione e andiamo a riporle in una teglia rivestita di carta tra forno. Finita la lievitazione, con l'aiuto di un tagliamela andiamo a formare delle formine per il pane. E dopo averli spolverizzati con un po' di farina andiamo a metterli in forno caldo a 230 gradi per 20 minuti. Panini croccanti, grazie e alla prossima ricetta! Prendiamo un po' di farina e alla prossima ricetta!